La novità che Central Tubi propone in fiera è un sistema di georeferenziazione e localizzazione delle condotte in polietilene. La prima volta che si affaccia nel mercato italiano è un sistema dotato di un filo in acciaio che viene assemblato durante il sistema di produzione del tubo in polietilene che permetterà di georeferenziare e localizzare le condotte con un grado di precisione di 2 cm planimetricamente e con un margine di errore massimo del 5% in profondità. Questo permetterà alla multiutility, il gestore appunto, di capire dove si trovano i loro tubi e accatastare fondamentalmente quello che è la infrastruttura interrata.